Fa dell'autoironia il suo punto di forza la conduttrice Barbara D'Urso che lancia una linea di t-shirt dalla stampa inequivocabile. Sulle magliette in questione, infatti, campeggia il celebre tormentone della conduttrice, quella frase con la quale sul web i suoi detrattori sono soliti prenderle in giro, e lei mi sta dicendo che è... Su sfondo bianco e con stampa in rosa o in nero, la linea di t-shirt della D'Urso è firmata Carmelita Smack, un marchio che riprende il nome del blog aperto dalla stessa conduttrice, uno spazio virtuale che, unito ai suoi profili Twitter e Instagram, la rende una tra le personalità TV più social del momento. Non si tratta della prima t-shirt particolare di cui Barbara si fa a testimonial. Memorabili sono quelle con le stampe a letto sono fantastiche e tanto poi esce il sole che riprende il nome del suo primo libro. All'ans, la conduttrice ha dichiarato, È la conferma che mi so mettere in gioco e che sono autoironica. Ho usato l'espressione con cui mi prendono in giro per prendermi un po' in giro da sola. L'idea è nata via web, da quando ho iniziato a scatenarmi tra faciboloc, Twitter e il mio portale e ho visto che molti utilizzavano le mie parole come modo di dire. La D'Urso, le faccine e la frasette, la frase effetto e la celebri faccine costituiscono quasi il leitmotiv della carriera della D'Urso. Non c'è personaggio noto o meno che non la conosca per i suoi curiosi modi di dire e di fare. È la stessa Barbara a riderci sopra quando i suoi sostenitori le fanno notare via web le sue simpatiche gaffe. Ma sono soprattutto le faccine a essere diventate il marchio di fabbrica della D'Urso, l'argomento sul quale più comunemente la conduttrice si diverte a scherzare e a prendersi in giro. E chissà che presto o tardi non diventino il logo di una nuova t-shirt. Chi se ne frega.